Intro Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo sesto episodio dell'Elimination Nuzlocke a Pokémon Rosso Fuoco Signori miei, nello scorso episodio abbiamo catturato Luke e anche Kauna che è nel box e che tra l'altro ho evoluto in Beedrill Inoltre abbiamo superato la MN Anna ottenendo la MN01 contenente taglio e abbiamo sconfitto anche l'Eatsurge superando il suo tranello dei cestini Inoltre ho preso la MN Flash fuori parte catturando dei Pokémon che ho già liberato e oggi signori miei andremo avanti con la nostra serie Ma prima vi ricordo che anche oggi è tempo di votazioni e quindi finito questo episodio andate nello straw poll in descrizione per trovare diciamo lo straw poll nel quale votare Signori miei, se in questo episodio non dovesse succedere qualche cataclisma di dimensione apocalittica Ma questa volta non ci sarà la casella vuota e quindi andrò quasi di certo a perdere dei Pokémon ma staremo a vedere Vi invito fin da subito a lasciare un bel mi piace e a rispondere alla domanda del giorno che trovate come solito qua sotto nella sidewall Prima di iniziare questo episodio e nulla direi che possiamo proseguire esplorando come avevo già preannunciato il percorso 11 Non affronterò tutti gli allenatori però iniziamo subito con la cattura Mewile, beh, beh, oddio, non è pessimo Mewile, sarò sincero Non mi fa schifo Tutto sta nel vedere se riuscirò a catturarlo quasi Comunque mi sono munito di abbastanza Pokéball in teoria Quindi non dovrebbe essere un problema Sì, perfetto, preso Preso e mo' come lo chiamo io Mewile, signori miei? Mewile, come potrei chiamarlo? Non ne ho la più palida, non ne ho la più palida idea Mewile, Mewile, come cazzo lo chiamo? Lo chiamo... è una pianta carnivora Cioè, mangia, mangia gli insetti Eeeh Eeeh Eeeh, una donna E' una donna carnivora E' una donna con i denti, così minacciosa Suocera La chiamiamo suocera Partiamo di ignoranza Ole, suocera va nel box E con questa cattura, signori miei, siamo a due riserve Questo vuol dire che se anche in questo episodio Mi viene da tremare Dovessero morirci ipoteticamente due Pokémon All'eliminazione ci sarà comunque la possibilità di perderne un altro Ovviamente, signori miei, non ve l'ho mai specificato Ma Se un Pokémon non è nel team E' nel box Non sarà inserito nel sondaggio Detto ciò, direi di affrontare un po' di allenatori a caso Tipo questo qui che mi sta molto simpatico E che mi ha col... Porco di quel... Ah ok, no, perfetto E' vero che non sono randomizzati quei tipi Ah, si Ho tolto il condivido esperienza Luke, signori miei Perché C'è proprio in tempo Un episodio è diventato il migliore del team praticamente C'è E' proprio il devasto sto Pokémon Voi non avete idea Mettiamo davanti Elix E... Bonus Allora, innanzitutto io so che Perfetto Ci sono anche un po' di strumenti in giro qua Ah, e ho insegnato Flash a Kaskoff Non perché lo voglio far diventare lo schiavo MN Ma perché tra tutti i Pokémon Che potevano imparare Flash Lui era quello che aveva Fangosberla Che era la mossa alla quale avrei rinunciato più volentieri Intanto Vigoroth va giù per... Pregate per me Sparalance No, che sparalance però gli fa malissimo Ok, perfetto E' andato a casa Aiutiamoli a casa loro i Ciansei Perfetto Facciamo un Cianseimento per controllare la popolazione Sparatemi Sparatemi No, però non dovevi affrontarmi Dodrio, perfetto Ho appena incontrato il tuo frate Ok, intanto sei morto Malissimo Phoebas E boom Andiamo Lady Bird Che è tantissimo che non combatte Signori miei Dall'inizio dello scorso episodio Ma che è sta mafia? Ok, giù Tra l'altro signori miei Mentre proseguo Vi faccio presente Che io registro Praticamente Sto registrando appena dopo il quinto episodio Questo perché io Con questa serie Mi sto organizzando Nel registrare due episodi di fila E poi aspettare Le vostre votazioni Quindi Se voi mi lasciate dei consigli Comunque Nell'episodio In un episodio Diciamo Che potrebbe essere il quinto Verranno attuati Nel settimo Perché il sesto Lo registro subito dopo Ad esempio Nello scorso episodio Vi ho chiesto Se eravate favorevoli A rifare la cattura Ad Aranciopoli Ma siccome Sto registrando subito dopo Ovviamente Non posso saperlo E quindi Se la vostra risposta Sarà comunque positiva Andremo ad attuare Diciamo Questa vostra scelta Nell'episodio Due episodi dopo Insomma Parlando in generale Psyduck Nel frattempo Megacorno E a casa Olè Perfetto Allora Qua mi rimarranno Degli allenatori Che utilizzerò In futuro Per l'allenamento Direi A parte che io In teoria Ho un cerco a sfide Quindi frega cazzi Ormai mi sono allontanato Non è un problema Possiamo proseguire Allora Mettiamo davanti Luke Perché signori miei Mi sto innamorando Di sto pokemon Davvero È qualcosa di spettacolare E dirigiamoci Verso Monte roccioso Tra l'altro Signori miei Faccio anche un salto A celestopoli Perché voglio ritirare La bici Non che io andrò Ad utilizzare la bici Questo di certo Non succederà Perché tanto Il velocizzatore Quindi non mi serve Però nel caso Dove potesse Tornarci utile Insomma A parte che c'è La pista ciclabile Quindi prima o poi Tornerà per forza Utile Siamo a 5 minuti Quindi probabilmente Signori miei In questo episodio Faremo anche Il monte roccioso Ora siamo pronti Vediamo un po' A livello di rimedi Come si è messo A livello di drink Ci siamo Quindi beviamo Bevuta più leggendaria Della storia Poi In editing Controllerò Quanti secondi Ho bevuto E nulla Direi che possiamo andare Da questa parte Iniziare ad affrontare Gli allenatori Quindi via col primo Partiamo subito Di cattiveria Camera Up to dio Colpo di fango Ti manda giù quasi Speculmo Mossa no Mi fai paura Ole colpo di fango Giù signori miei Alla prima occasione Vero che non hai levitazione No Alla prima occasione Cercherò di togliere Destino obbligato Perché è ovviamente Una mossa Che in una Nuzlocke Insomma Non è proprio La migliore Diciamo che Di cattivo augurio Ecco Perché obiettivamente Per uccidere poco Un avversario Dovrebbe morire Il mio E sinceramente Non ci tengo Nel frattempo Nugget livello 27 Non vedo l'ora Ragazzi Che si evolva Non vedo l'ora Di avere Blazica Nè un pokemon Che ho sempre Amato tantissimo E quindi Spero davvero Come prego Ultimo canto Cioè tutte mosse Di merda Signora mia Io non ho parole Lilip Nel frattempo Colpo di fango Oddio Quanto regge Sto coso Un altro colpo di fango Col terzo Dovresti andare giù In teoria Ok Perfetto Madonna una bestia Proprio Sdoppiato No come osi Outspeedarmi Mettiamo subito Le cose in chiaro Vai giù Mi scappa Un rutto Di dimensioni Epocali Ce l'ho proprio Carico Nella trachea Una cosa allucinante Proseguiamo E nulla Penso di stare abbassando Il contenuto Di livello lessicale Di questo canale Di un livello allucinante Non so se questa frase Che ho appena pronunciato Era in lingua italica Non mi interessa Cioè in realtà si Però vabbè Non posso stoppare Per andare a controllare Muori Quasi Megaco Eh ok Allora va bene Che siamo in periodo natalizio Tra l'altro questo video Dovrebbe uscire il 23 Il 23 Tra l'altro ragazzi Non so quanti video Usciranno verso Capodanno e Natale In particolare Verso Capodanno Perché Vabbè Passerò la sera fuori A festeggiare Di conseguenza Non Non vi assicuro Diciamo la permanenza di video Ma tra l'altro Immagino che anche voi Abbiate altre cose da fare Che guardare i miei video Nel senso Passare il Natale Con i vostri parenti Iscrivetevi Ecco magari La DDG di quest'oggi Invece sarà molto particolare E sarà che cosa Prenderete per Natale Io personalmente Per Natale Ho preso Degli Accessori Riguardanti La chitarra Diciamo Mentre Mentre lo scorso Nel canale L'ho dedicato Al canale Era ovviamente Un periodo Ancora di crescita E quindi avevo ancora Delle attrezzature Abbastanza scarse Adesso che diciamo Sono cresciuto Anche a livello Di qualità Dei video Ho sentito più il bisogno Di concentrarmi Su un altro ambito Su un'altra mia passione Che è quella del mondo Della musica Perché si Immagino che lo abbiate capito Ma io suono La chitarra E nulla Per questo Natale Mi sono concentrato Su questa mia passione E fatemi sapere Nei commenti Invece voi Che cosa avete preso Se avete preso Sole e Luna Insomma Tra l'altro Intorno a Natale Dovrebbe arrivarmi Anche la Capture Che è una cosa a parte E quando mi arriverà La Capture Sperando che arrivi E che non mi blocchino Il pacco Arriveranno anche Tante cose Molto interessanti Ma questo L'ho già detto E molti di voi Probabilmente avranno Già capito Di cosa si tratta Comunque direi Direi che questo Linkana è un gran stronzo Ma proprio Di dimensioni apocalittiche Muori Oh che è sta mafia Perfetto Morto E nulla Sì torniamo Alla nostra Alla nostra serie Perché abbiamo già divagato Troppo Mettiamo davanti Luke No dai Ilix che oggi Non ha ancora combattuto Già Luke Sto facendo sfracciare Questa è una bacca Oh repellente Max Mai regalo Fu più appropriato Fuori dal monte roccioso Davvero Questo qua È il vero regalo Di Natale Signori miei Come se non l'avessi detto Markrow va giù Perfetto Il prossimo è uno Schitti La potenza fatta Pokémon Signori miei Ok Ho scaricato il rutto Che avevo in bocca Da ancora prima Che iniziassi La roba di Natale La La divagazione Se così si può dire Tra l'altro Signori miei Dovrò andare A studiare Filosofia Tra un po' Quindi l'episodio Non L'episodio è un cazzo L'episodio durerà Trenta minuti Come al solito Ah e tra l'altro Stiamo per arrivare Alla Vandonia Signori miei La mia città La città per antonomasia Del mio canale Insomma Essendo Un canale a tema Creepy Muori Sei il mio Pokémon preferito Dopo la tua evoluzione Ma ciò non vuol dire Che non devi morire Ok Perfetto Acqua fresca Questo qua Suppongo che non l'abbia battuto E difatti è proprio così Colpo di fango E giù anche questo Stavo dicendo qualcosa di figo Però prima Prima che mi arrivasse Un Registine in faccia E nulla Non ricordo Probabilmente Mi tornerà in mente dopo Stavo dicendo Di Lavandonia No Prima di Lavandonia Ah si che L'episodio verrà comunque lungo E manderò Puttane verosimilmente Il mio studio Andando a prendere Una triste sufficienza Questo è un nuovo percorso Quindi è Una nuova cattura In teoria Giusto Giusto Sì è una nuova cattura Quindi posso farla Però prima direi Di prendere a botte Questa campeggista Questa campeggista Young Campeggist Fucked by Creepy Ce lo vedo già Su Su Pornhub Sto Sto titolo Ok Perfetto Liquidata in poco tempo T'ho sgamato Una Bacca stagna Perfetto Ok La bacca stagna Forse è una delle più utili Perché cura l'addormentamento Si dice addormentamento Penso di sì Cattura Ok Nidoran È un pokemon Mainstream È un pokemon Mainstream Però non è malaccio Insomma Uh Quasi preso Non è malaccio Nidoran In effetti È un buon pokemon Sì Diventa un Nidoking E il problema sarà Trovare una pietra lunare Il problema sarà Trovare una pietra lunare Per farlo diventare Un Nidoking Però ragazzi Di norma Ci può stare Ci può stare Come pokemon Ogni tanto mi sta aprendo però Mentre io continuo a dire Bel pokemon Bel pokemon Mi apre il culo Giustamente Entraci No dai che poi per il monte roccioso Devo andare a prendere altre po Porca di quella puttana Ho capito Devo indebolirlo Mega assorbimento Ok Perfetto Gli ho fatto tantissimo Signori miei Taglio E Dai adesso ci entri però Ok Perfetto Per lui c'è già il nome Siccome Nidoking Allora lo chiamiamo Lo chiamiamo Blur Perfetto Possiamo proseguire Ovviamente Penso che Quasi tutti Conoscano Blur Nel caso Sappiate che è uno Youtuber Benissimo Allora È nel box E nulla Possiamo andare Verso il monte Roccioso Prima cosa da fare Nel monte roccioso Ma lo sanno tutti i giocatori Di poco Con un pochino esperti Flash Perché altrimenti Non ci capite nulla Comunque Signori miei È verosimile Che No 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 Mi rifiuto Non è vero Oddio la mia vita Cazzo Ma perché Ma dopo Kakuna Lui Ma Piliati sta po' che vuole stare zitto per piacere Non entra Entraci Oh E come lo chiamo io Meta Metapod Meta 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 Lo chiamo rugby Lo chiamo Ma non lo so Ma vai via Madonna Quanta ignoranza In sto episodio Per i soprannomi Mamma mia Rugby Oddio Ma perché Sta vita triste Cos'è questo Un etere max Ok perfetto Questo sarà utile Oddio Oddio Dopo Kakuna Metapod No Ottimo Ottimo davvero Muori Grazie Non lo so C'è un'invasione Fatemi sapere Se c'è da fare la disinfestazione Che chiamo i miei amici Insetticidi Non lo so Mi sta Mi sta Leggermente Analizzando Che male Mega assorbimento Vai giù Ok perfetto Livello 27 Pretendo Ottimo Cosa vuole impare Grazie Certo Lo userò sicuramente Poi fa la fine di Aboba Snow Della prima Crazy Rock Per chi se lo ricorda Signor mio Quel pokemon lì Era spettacolare Aveva l'abilità Aveva l'abilitation Di neve Però essendo che Il suo tipo era randomizzato Giustamente Veniva colpito Dalla grandine E nulla È stato seccato Dalla sua stessa abilità GG Intanto Madonna raga Quanto è forte Il yuk Signor mio È proprio Cioè È un pokemon Devastante Non ho parole Appena ha shotato Un blastoise Speriamo Che rimanga così Per tutta la durata Della serie Sarebbe davvero Qualcosa di spettacolare Succo di pacca Succo di pacca Praticamente Una pozione Siamo a 14 minuti Signori miei Ci stiamo mettendo Anche molto meno Del previsto E quindi Chissà Chissà Che non si possa Anche esplorare Il percorso A sud di Lavandonia Vedremo Signori miei Vedremo anche Perché lì Potremmo farci Una cattura Con l'amo Volendo Anche se Io in teoria Aspetterei L'amo L'amo Superamo Dove cazzo Si ottiene In questa regione Perché Sapete che Non ricordo Io so che L'amo buono Si ottiene A Allora L'amo buono Si ottiene A Fuxiapoli Sono sicuro Il superamo Si ottiene Il superamo Si ottiene Nel Entei Si ottiene Nel percorso A sud Di Lavandonia Però In questo momento Non potremo accederci E quindi Sarà inutile E quindi Poi in realtà Di pokemon Non me ne servono Così urgentemente Quindi Penso che Risparmierò La cattura Per il futuro Insomma Cioè Quando magari Ci morirà Qualche pokemon O quando ne perderò Qualcuno Per l'eliminazione Quando avrò Ma perché Allora Ripeto Spostiamo il microfono Quando avrò Diciamo Più necessità E soprattutto Delle possibilità Di ottenere pokemon Di livelli Più alti Andrò a fare La cattura Anche lì Scintilla Comunque se Avremo tempo Si spera Andremo comunque A visitarlo Quindi Non vi preoccupate Intanto Cioè Spiegatemi Com'è possibile Che io abbia Due pokemon Bruciati Da due battaglie Diverse Gorebis È il secondo Che trovo Qua dentro Ma che è L'emigrazione Anche loro Hanno deciso Di diventare Degli anfibi Devi morire Ok Perfetto Tornato su dagli abissi Sto pokemon Così dal nulla Allora Scale Perfetto Me lo ricordavo Più corto Sto luogo Madonna quanto è gigantesco Allora Repellente Perfetto Affrontiamo questo avventuriero Che ci prende Dalla casa di gesù cristo Corfish Tuono shock E via Perfetto Porygon Stesso discorso Però Onda calda Oh L'ho bruciato Il karma Ero a zoio E a casa pure lui Signori mie Mamma mia Quanta La potenza di questi pokemon E un bel team Quello che E qua mi è scliccato un pochino No Beh neanche tanto E un po E un bel team Quello che abbiamo Diciamo Un bel bel team Non mi dispiace per nulla Ok Kaskoff Forse è un po' la piaga Però in realtà Anche lui non si sta comportando male Se la sta meritando Questa sua permanenza nel team Cinesi Nel frattempo Metterei in campo Luke Farei uno sdoppiatore di arroganza Minchia se missi Ok Perfetto Ci siamo capiti Oddio raga Mi stanno prendendo davvero a botte però Proprio tanto tanto Allora Vediamo di mettere un po' le cose in chiaro Ora Cure per la scottatura Non le ho A parte vabbè Una ricarica totale Che non vado a sprecare Iniziamo a curare i pokemon Quindi Kaskoff Lui Li curiamo tutti raga Perché non voglio perderne Già ne perderò uno per l'eliminazione Per forza Quindi Quindi se posso risparmiarmi Certe cazzate Lo faccio più che volentieri Affrontiamo anche questo avventuriero Tyrog Ole Bracere Giù Ahia Osoclava però fa male Miau Ehm Fango No 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 nugget Ma dai Ma no nugget Ma Ma tra tutti Proprio lui doveva Doveva beccarsi Esplosi Ma che sfida Ma Cioè ho appena detto E vai Tra un po' si evolve in blanzi Che ne si volevo Volevo proprio Ah Gesù 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 Adesso vedremo tra le riserve Signori miei Chi prendere L'ho Come volto Ok perfetto Ho cominciato a avere paura Madonna raga Si può avere così tanta sfiga Ma poi c'è proprio Proprio su quel pokemon Non poteva beccarne un altro Mizzica E tra l'altro forse Dopo Lady Bird È quello che ci segue da più tempo Ci seguiva Cioè Ciao è stato bello Ok no Me lo ricordavo più corto Il monte Quindi probabilmente Il percorso a sud di Lavandonia Me lo terrò buono Per futuri allenamenti Cioè mica tanto futuri Perché tanto un pokemon Lo perderò comunque Perché adesso Sceglieremo Il pokemon Tra le riserve Che rientrerà in team Visto che ne abbiamo All'incirca Quattro Se non sbaglio Ne sceglierò uno Che poi allenerò Insomma Così poi più che altro Da inserirne Da inserirne Sei nel sondaggio Insomma Super pozione Ok perfetto Quaggiù dovrebbe esserci uno Che mi insegna Frana in teoria Vero Si Allora Puoi imparare la Elix Vediamo se abbiamo Qualche mossa da togliergli Contatore raga Contatore è una mossa Che non utilizzerò mai In una Nazlock Perché è pericolosissima Nel frattempo Lady Bird davanti a tutti Che è ancora a livello 27 E andiamo ad affrontare Anche quest'altro avventuriero Idropompa Non ha più PP Che vita di merda Martellata No Vai giù Fascino proprio Si Fascino di un Dodrio Deve essere proprio Ammaliante Guarda Non oso immaginare Vai Fish Il tuo momento Ah e per chi mi ha chiesto Se c'è lo zampino di fuoco Di prometeo Nel suo soprannome Si C'è lo zampino di fuoco Di prometeo Perché si Seguo fuoco Fuoco Di prometeo Dovrei seguire anche L'accademia della Cruz Che le sue lezioni D'italiano Ma vabbè Dettagli Megacorno E va giù anche questo Abra perfetto Dio mio quanto è lungo Sto monte Io non me lo ricordavo Per nulla così lungo A parte che era tantissimo tempo Che non lo facevo Una pokeball L'utilità Allora 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 mettere davanti Io raga ho paura A mettere davanti Sia Elix Che Kaskoff Quindi non me la rischio Per nulla Evitiamo di far cazzate Ralts Nel frattempo Aerosolio E giù Perfetto Jigglypuff Ok Non so perché Ho pensato a Jumpluff Ariados Bello sto team Che ti ho ammazzato In quattro colpi Ottimo Livello 29 Per Fisch Perfetto Vuoi imparare Comete Oddio Sapete che No ma io Tanto ho già Ho già Luke Che si fa le stab Con Con sdoppiatore Non mi serve Allora Dovrebbero essere Gli ultimi tre allenatori E poi dovremmo essere Arrivati giustamente Zapdos No No Minchia ma ha bruciato Dai ma che sfiga Si può avere Nella vita Muori Ma dai Ma vi rendete conto Della merda Spinda Luke contro Spinda Questo lo devo fare Questo lo devo fare Luke contro Rochette Assurdo Assurdo Non è uno scherzo Ho paura di morire No Luke ritorna No 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 Abbandona le tue ambizioni Buon latte A casa Muori Ok Perfetto Dio mio Che nervoso Certi Pokémon No no Lady Bird Davanti Dio mio Siamo a 22 minuti Ero convinto Di uscirne In poco tempo Da sto luogo Pugno spine Perché sei anche di tipo terra Se non sbaglio Boras Mi congeli Guarda il colmo Ok perfetto Ci siamo capiti Pugno spine Giù anche lui Grovile Oddio ce l'ho Sì esatto Megacorno Megacorno Giù anche Grovile Ottimo Mi ha fatto venire in mente Nugget Povero Povero me più che altro Perché Come al solito Me la sono tirata Tra poco si evolve E ovviamente è morto Muori gentilmente Ti chiedo di morire Pretendo la tua morte Ok perfetto Ci siamo capiti Cubone Ho pugno spine Io però Ho pugno spine Io però Ho pugno spine E ovviamente Mi sclicco Non sia mai Calma Ok No Eh Così va già meglio Ok siamo quasi arrivati E mettiamo davanti Fish Perché quello A full vita Strumento Flauto bianco Oh in questo episodio Avessi trovato Uno strumento decente Una cosa allucinante Hanno fatto tutti Cagare Dal primo all'ultimo Poliwhirl Tuono shock Cioè Poliwhirl Che dico John Frog Oh Oh Svegliati Creepy stories Svegliati Poliwhirl Ma come dove siamo Una giungla Allora Muori anche tu Vabbè Potevo usargli Erosoio Paralizzante Ho visto più condizioni Di stato oggi Che nel resto Della mia vita Proprio Ok No Pensavo ci fosse uno strumento Invece no Io questi raga Me li evito Perché Velocità X Perché Ah perché Non ho i pokemon messi bene Se ti giri ti stupro Ok Ah perché Non hai pokemon messi bene E B Perché voglio utilizzarli Per un futuro allenamento Signori miei Se mi sono fermato Senza proseguire È perché Stiamo per entrare Nella mia city Uno spettacolo È stata Forse questa qua È una delle città Meglio sfruttate Dell'intero gioco Comunque nel frattempo Andiamo a depositare Nugget E Sì Lo depositeremo di sicuro Nella mappa città Proprio Proprio lì Allora Depositiamolo E andiamo a sceglierci Un pokemon Allora No 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 Io Sto impazzendo Ok Allora Allora Premettendo che Metapodebidri Li escluderei Per il semplice fatto Che di coleottero Ho già Kaskoff A me È effettivamente Un metallo Mancherebbe Giusto Qua è solo metallo Sì È acciaio Sì che poi mi stuprate Nei commenti D'altra parte Lui è veleno Veleno che però Io ho con Kaskoff Sì E allora raga Direi che Vado a prendere Vado a prendere Suocera Che entra in team E quindi sarà Votabile Per le votazioni Che bel gioco di parole Comunque signori miei Io spero che Questo episodio Vi sia piaciuto Se è così Vi invito Come al solito A lasciare un bel Mi piace A commentare E a iscrivervi Al canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Passate in descrizione Per i social E per il link Dello straw poll Nel quale votare E rispondete Alla domanda del giorno Sul regalo di Natale Che troverete Come al solito Nella cyber Detto ciò Ci becchiamo In un prossimo Video